Tendo di brutto, ciao amici miei, benvenuti in live con Marco Dranz Games di Gran Turismo 7 Salutiamo il grandissimo Kevin che è infatti, ciao Kevin! Ciao a tutti Ok, 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 ok Allora Vediamo un po', vediamo un po' di fare La gara dei soldini, che tanti mi avete chiesto Anche su Facebook è arrivato già quasi in un giorno a 155 view E devo anche ringraziare l'amico Kevin che mi ha passato tutte le cose fichissime che mi ha detto Ciao amici, ciao grandissimi Ciao, ciao, ciao a tutti Dai cominciamo sta live vettina Bella bellina Io dovevo fare un po' di warzone Invece, invece, invece Non abbiamo avuto l'opportunità di fare il gioco insieme Magari lo faremo dopo, magari lo faremo dopo, verso le 11 Ok amici miei? Magari poi c'è anche il mitico Kevin, possiamo farci una mega E il mitico dissociatore, che possiamo farci una giocata dopo Però ho trovato una pagina Che è un tipo, ha fatto tipo un paio di settaggi su un paio di macchine Sì, sì Però non so se sono buoni, eh però Se devi provare Eh, bisogna provarli Sì, perché da lì ho provato quella della Ferrari Che adesso è passata a te Secondo me va a manetta Cioè, va benissimo Se ho fatto uno, trentotto, due, tre container con due settaggi No, bello Ma io oggi sono andato abbastanza bene con la Subaru Hai visto che non tiene bene la strada e mi piaceva proprio come macchina sinceramente Eh, quella ce l'ho anch'io Ah, ce l'avevi anche tu? Ah, bello, bello No, io non ce l'avevo, vedi che non ce l'avevo Io voglio Ho comprato un po' di macchine Questa Cioè, la Bucati G3 Mmm, che non so Bicilencer G3 Ah, poi hai preso un po' di G3 Ferrari G3 Forte La Baru, Berix Anche quella? La G4 no, non l'ho comprata La G3 ho preso Io adesso sto facendo i 9 milioni e mezzo Mi manca 2 milioni e mezzo Per comprare la McLaren La vorrei prendere il primo possibile Non tanto per usarla Che vabbè, la vorrei usare Ma più che altro per Perché non mi vada via, capito? Ok, che non ha ancora il Il logo che se ne sta andando Però, sai com'è? Non si sa mai Eh, domani mi metto a far male Eh sì, per forza, amico mio Per forza Sto giornalmente ne è piaciuto tanto Spero che non muovano più il plazzo Eh Io penso che hanno tirato giù i premi E la gente si è veramente arrabbiata E quando tu fai arrabbiare quelli che stanno giocando Sono ritornati un po' sui loro passi Perché se tu vedi Praticamente hanno Sono tornati indietro, eh E quindi secondo me Hanno visto che si sono arrabbiati la gente Eh sì, per forza Allora io qui non ho letto bene Quanto erano i giri Perché volevo provare Queste qua Del circo Il sorpasso Dimostra essere Il giro 1 Questa c'è stato sottoposto Piccoli errori di valutazione Ciao amici di Twitch Aver conseguenze catastrofiche Questo qua è 24 minuti Però purtroppo Un c'è per la Vesu Sietta il Sietta il Che palle Non c'è? No Ah Tutto Ci sono per tutte le macchine Ah ok 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 Non so Allora Incominciamo a riscaldarci un pelo raga Con questa cosa piccissima Scusate Scusate Ok Allora Non so che cosa devo fare Sì Ah Sì Sì Con la Tomahawk Con la Tomahawk Che ho grande che ha inizi Questa qui che c'è a Kavatapi Come si chiama? Degli Stati Uniti Kavatapi No Doge? Sì Con la Tomahawk Ma la pista Quella Degli Stati Uniti Quella con Kavatapi Come si chiama? Sì Non ricordo Come si chiama la pista No La pista Pista E quella che c'è La Tappi Sai quella che c'è Il destra e sinistra Lì in discesa Non mi ricordo la pista Come si chiama La Quella che corrona anche in moto È difficile Quella che c'è a destra e a sinistra Ma non è Sbagliato Il destra e sinistra Vabbè Guardi la live Poi la vento Ciao amici di Twitch Facciamo un po' di riscaldamento Il destra e sinistra Deve essere depotenziato Come sta a posto Perché non è Statico come c'era là Sì? Sì? Se funziona meglio? Ciao amici di Twitch Siamo arrivati sull'ultima curva Dovevo andare da Nooo Vabbè la foga di disperarlo in Cosa 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 C'è anche un perfettante Sì 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 La diabolo è cattivissima Passa passa settaggio Bello Sì 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 Eh il diabolo è terribile a tenere in strada Sì che c'è il settaggio Due settaggi Beh si prova Interessante Ma no Ma abbiamo toccato dentro lui Mi è venuto addosso lui Mi ha dato guarda Ho finito a me Ma dai Ma non è possibile Mi è venuto addosso lui Incredibile Incredibile Vabbè Ma non è possibile Sì, 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 perché quello che l'ho fatto io non era buono, no? Oh, da provare. Beh. Porca loca! Per pochissimo! Credo di sì. Ecco il caffolo del gioco. Siamo ancora del più veloce. Ciao amici di Twitch! Benvenuti Marco Drams Games. Oh, sono riuscito ad arrivare al secondo, ma il gioco vuole ancora di più. Vai, è ancora più veloce, è ancora più veloce. Eh, dove ti sorpasso? Ma dove la sorpasso questa qui, ragazzi? Oh, quando cambi la visuale, Kevin, è sempre un po' un trauma. Ah, la canna. Ho la canna. Un filo, un filo prima. Un filo prima. Un filo prima. ma devi frenare male allora la dodge questa qui la BGT è la più bella di tutte comunque è quella che frena e si riesce a governare l'altra è una cosa incredibile c'è la prima che aveva preso era impossibile questa è già fattibile insomma se riprende dentro la macchina dell'altro non è colpa mia gioco non lo trovi nella cellulata ci sei? e vai che andiamo a vincere e vai e così mi piace amici eccola qua e vai raga vediamoci un gran gameplay bella lì raga è talmente bassa questa Tomahawk sembra una macchina Formula 1 eh Kevin? ma quanto è bassa rispetto alle altre? è larga però eh molto più larga no questa qui che abbiamo preso che mi hai fatto prendere per ultima la SRT è fantastica proprio eh si si tiene anche la strada frena vabbè chiaramente va a mettere molto veloce che ma questa non è quella che fa tipo aprire gli allettoni tutte quelle cose strane questa è quella più più normale poi ti mando pure la strada si grazie oh 40.000 a fare sta cosa eh sta garettina qua da 48 secondi non male direi ciao amici Twitch benvenuti ragazzi allora Le Mans 24 minuti no comprimo una sorta di 24 ore 24 minuti no anche no anche no la Huracan è quella macchina ancora? ma più che altro la Huracan 1.837 è la Diablo giusto si guarda io le ho comprata anche la Diarama l'hai comprata? sì è quella dei coni raga è incredibile come si può lungiali dare ahahah c'è una palla ma prende dentro i coni e non riesce ad andare più di di 70 all'ora grandissimi raga i settaggi quelli che va dato a Ciro sì se no 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 quelle che non mi ha dato solo uno penso se non ricordo male guarda sulla chat di Whatsapp se no rimandano tanto che frega ora che stai a guardare se me l'hai mai dato o no lo rimandi poi anche tra l'altro tu per più tempo sei più bravo magari se li provi anche mi dici qual'è il migliore subito senza tanti spatti a parte che poi i settaggi ragazzi sono per ognuno guarda che l'ho carnato dai non li ho presi tutti non ci credo non ci credo devo rifarla devo rifarla per 6 coni incredibile ho cannato per 6 coni amici allora devo rifarla ma il bello è che praticamente va talmente piano perché prende dentro i coni si incastra e non aumenta e mi prende dentro anche un po' vede lo sterzo più così ma dai mi ho preso dentro il cono ma come fai a prevedere una roba del genere the show must go amici grande grazie guarda questa che sto facendo adesso se sei collegato su twitch in live che cavolo di prova è ci sono i coni che mi branca dentro mi vanno sotto la macchina me l'ha fatta alzare e non ne ho presi e non ho preso un ton di coni e non ho preso devo proprio prenderli tutti 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 no quattro coni devo proprio prenderli tutti tutti ragazzi incredibile incredibile ragazzi mamma mia e non ho preso dentro e non ho preso dentro Grande Kevin che mi ha dato un bordello di forza Grazie per aver mandato quell'altro Ciao amici di Twitch Sto facendo una mega 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 Trova coni Coni con il conetto Ciao Dsc mitico Grandissimo Mi hanno spostato la telecamera Ciao grande come stai Guarda che prova coni che sto facendo Incredibile prova coni Mi branca dentro i coni E mi butta fuori E' già la terza volta che la faccio Più difficile di questa cosa che fare il murmuring Grande Dsc Come va tutto bene amico? Oggi abbiamo fatto una mega Una mega Grande Lord amico mio Ciao Lord Grandissimo mi sei mancato oggi Lord Abbiamo fatto una mega corsa Con il mitico Maurizio Il papà di Morris Il Il mitico Phil E il grande Charles E c'era anche presente Il mitico Kevin Che ha sentito tutto Ciao Marco Ciao Giulie Bene grazie Perfetto Ciao grandissima Giulie Dai dai che la sera è appena iniziata Ci scaldiamo Con un sacco di coni Devo tirare sotto 200 coni Grandissimi ragazzi Vi siete mancati oggi eh Oggi è stata una Giornata proprio divertimento Che ci siamo divertiti di brut Ciao amici di Twitch Benvenuti Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale E se volete giocare con me Mandatevi il vostro ID Della play raga Ci facciamo delle mega giocate Tutti insieme Ok Dopo devo aggiungere anche Un altro ragazzo Che me l'ha chiesto Spero di averlo preso Ciao Roby Ciao grandissimo Mia moglie è andata a camminare Me l'ha detto anche a me Ma io ho detto No guarda Devo fare la live Stasera non posso Non posso Per un cano Ma le magliette Quando le fai amico mio Eh Avevo chiesto Thor Il grandissimo Thor Di informarsi Poi alla fine Non mi fate sapere più niente Perché come sapete Anche Perché non è gruppo È un casino Io ho mandato a tutti Il logo Potete stamparlo Con la vostra stampante E appiccicare Il vostro logo Con lo scorci Io penso che questa È già una cosa Incredibile Che nessun youtuber Nessuna Casa di moda Abbia fatto una cosa del genere Che vi stampate il logo E ve lo attaccate Ve lo appiccicate Con lo scorci E poi fate una bella fotografia Ci andate Al matrimonio Di vostro Di vostri amici O ci andate Al compleanno Ah Qui è un disastro Qui è fatto Vento Con disastri Pianter Sradicate Tetti su Un bordello Però per adesso Pioggia no Infatti è bellino Grande Robby E mia moglie È andata a camminare Con Leo Dopo torna E viene qui A giocare un po' Con noi E anch'io ragazzi Sto valutando Poi di fare Due giorni Di live in meno Così riesco Andare in palestra A fare spinning E Prendere un po' Perdere un po' Di panzetta Amici miei Mi piace mangiare Ma A un certo punto Bisogna anche Pensare Alla panzetta Allora Prima ho perso Per due coni Per un cono E ho uno Qua un culo Uno Eh Cazzo Per uno Si può Uno Oh È questo scemo Vedi Mi branca dentro Mi si mette sotto Nella ruota È più piano Un po' Pianto Non me ne basta Con la ricerca Di nuovo Si Oro Seguite il canale Grazie Giulie Guardiamocelo Perché io voglio Vedere questa gara Che prendo dentro Tutti i coni Amici miei Incredibile Allora Io vi stavo dicendo Di fare una cosa Tipo questa Non mi fa vedere Replay Non è bello Si È proprio Il bello Replay Mia moglie Mi macchia Si 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 E che stava andando Talmente piano Che non sembrava Neanche replay Allora Vedete Ho stato proprio In scappolato Si si Io sto benissimo Ragazzi Nel senso Oggi Sto bene Sono andato a fare La terza vaccinazione Mercoledì E purtroppo Giovedì Venerdì Avevo febbre Dolori Non sono neanche Riuscito ad andare A lavorare Ringrazio il mio capo E Praticamente Oggi Mi è un po' passata Anche se ho la febbre E Dolori A tutte e due Tra l'altro Spero bene Spero bene Per il resto Tutto bene Per il resto Tutto bene Devo incominciare Ad andare in palestra Ragazzi Perché mi sento Che sono pesantito E Basta Poi mi diverto Con voi Mi diverto a giocare Oggi abbiamo fatto Una gara Un pomeriggio Insieme Stichissimo A ridere e scherzare Con il grande papà di Morris Maurizio Con Il mitico Kevin Ma era soltanto Di Aiuto Per me Mi faceva da copilota E Kevin In party E L'amico Phil L'amico Phil Eh sì Eh sì Eh sì Amico mio Bisogna Fare la dieta E a un certo punto Anche muoversi Perché io purtroppo Nel mio lavoro Io faccio i pezzi Per i treni Le macchine Gli aerei Queste cose qui Vedete Io vi Vi do Vi stampate il logo Di Marco Drums Games Ve lo applicate con lo scotch Fate la fotografia O ci potete andare a un matrimonio Potete andare a mangiarvi un gelato O dove volete Eh Tutti quanti vi guarderanno Tutti quanti sarete I più fighi del mondo Con il logo di Marco Drums Games Ok ragazzi Stappatelo E mettetelo sulle vostre Belle magliette Ok Lord sta bene Perfetto Perfetto A me piace con la tripa Il mio amore Anche a me Anche a me Anche a me Anche a me Che si vuole Si vuole stare meglio Capisci Quindi Sì Io quando ando in palestra Mi sento molto meglio Ma a livello Completamente Ho sbagliato Ho sbagliato Bisogna arrivare A un compromesso Ok Quindi Ci piace mangiare 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 Si deve anche Muoversi O fare palestra Perfetto 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 Perché questa Tomahawk Fa così Chevi C'era la Tomahawk Scassata Perché non va oltre Tomahawk Si è rotto Davanti Indietro va a 140 all'ora e non va di più si gira questo non va questo non va proviamo questo ciao amici amici se volete iscrivetevi al mio canale di twitch e di youtube ok amici contro la nissan gtr basta prendere una bella tomahawk giusto giusto oro guardiamola amica mi raccomando seguite grandissima ciao amici di twitch benvenuti amici miei ciao amici di twitch grandissimo rody e come si fa a vincere una gt una gt si batte con una tomahawk e va un attimo un secondo grandissimo marco trans games ok andiamo a fare un altro bel quanto mi da un bel 30 milotti chi è che mi ha battuto come è possibile che non sono primo fatemi vedere one second please qui c'è qualcuno che mi ha fregato qui c'è qualcuno che mi ha fregato fatemi vedere un attimo chi mi ha fregato chi mi ha fregato tra i miei amici jeppi hai capito jeppi rifamola rifamola un attimo perché sto scritto imitando la voce imitando la voce grandissimo 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 lord ciao amici e dai ci sta ci sta quando entrano gli amici nuovi o vecchi o comunque conosciuti voi amici miei io vi saluto sempre e se mi iscrivete anche ciao come va qualsiasi roba io vi saluto ragazzi lo so che insieme amici amore grandissimi ragazzi vi siete mancati non è possibile non sono possibili le live senza due e ancora mi ha fregato ma con cosa l'ha fatto il grande jeppi questo mega 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 recordone il divanatore bravissimo bravissimo Da un po' che io mancava Un bel, un bel, un bel, un bel Titolatore al canale Sardegna, eh, Sardegna Con questa macchina qui Cosa devo fare? Uh, ma questo è un frigorifero Ah, la Cataram Ragazzi, ma la vengono davvero? Proviamola Oh, Kevin, sto provando la Cataram Vediamo com'è Ah, merda Sai quella lì che vendono a due milioni e mezzo, Kevin? La Ciapparal Quella, la prima che c'è Quella, tra le auto Storiche Ah, da merda Sì, guarda Uh, mandorlatore Oh, guarda Eh, dove si stendono? Eh La lavatrice La lavatrice? Ah, te l'hai qua Sì, sì, guarda E' lo scaldabagno Un condizionatore Il condizionatore Sì, ma non tiene niente, ragazzi Sì Sì Anche perché Non tiene una strada E non tiene una mazza Ma forse per tenere la strada La tiene anche Però Ma come sbifora Ma come sbifora Dovrei arrivare il terzo Primo Questo Questo rottamone Grandissimi ragazzi Che bella la chat Quando è Animata Allora Adesso poi vi faccio vedere Il video Il video Scusate Ho fatto un video su YouTube Come si fa a prendere i soldini Ma ve lo faccio vedere anche adesso Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Ci aspettate un secondo Vi faccio vedere Come guadagnare 725 mila Euri Oh Sta Ford Che affronto Che affronto In 20 minuti In 25 minuti Dai Non no Ok ragazzi Grande Grande Giulie Dichiarazione d'amore Sul canale D'amore To drum Bellissima Bellissima Dai sposa La mitico Ok Ok È arrivata la Oli Ciao Oli Ci è tornata la mamma Allora Ciao Oli Ti è andata a camminare Mi distorce Che te lo fai Quasi strane Oli Ehi la C'è il dissociatore C'è il dissociatore Non l'ho visto ragazzi Parlami d'amore Mariu Ma cacchio Merda Sei la Ciapparal Ciapparà Acchiapparatti Si dice In Lombardo Ci sembra una Ciapparà Non una Ciapparà Ma 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 Ciappulata Ok Dai Dai Bisogna Farle Tutte a oro Da un sacco di soldini Madonna Ciao amici Di Twitch Non sta in strada Non la compro questa Fa schifo Ciao Oli 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 L'aulina Guarda qui Fatti vedere Oli Ma è un frigo Ma è possibile Che hanno fatto una macchina Del genere Ma ti cacciavano in mente Questi qua Di questa macchina Magari ha pure vinto Che qualcosa Alla prima di tutto Accelererà Ma dai Ma è sulla scia Ragazzi Ma in posto Questa gara Eh lo so Lo so Ho vinto Subi Gli altri Ho vinto subito La prima Alla prima volta Quasi Questa è una macchina Guarda che macchina Ma come faccio E vincere questo lontano Ciao Bregali Ah Penso che Zorda È un diseggiatore Bellissimo Bellissimo Ah non che Ecco che è arrivata Mia moglie Che sta parlando Da Altrove Sì ma non ti devi Imbarconare Caspiterina Devo passarla Questa qui Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Mi farà Diventare male Questa gara Ma mai Mola Mai mollare Da ciapparare Devo passarla adesso Sta Sta Ford Ok Forse l'ho fatta Così Posso avere più Eh infatti C'è proprio dei panni Sto lontano Io non voglio Montaggi di rispetto A nessuno Ma Ma vedi che mi toccano Loro Mi toccano Loro Mi toccano Loro Mi parte Mi parte A me la gara Ma cosa vuol dire Ma come li passo Io questi qui Non l'ho toccato Io Seguite il canela Chi è sto canela Seguite il canela Marco Drums Canela Ah canale Ok Il canela Il palpeggiato Eh Eh si Milioni di palpeggiatri Ehi Che sì Eh una di palo Una sfida Ma caspita Ma che schifo Ma non frena Mamma mia Raga Mamma Quando vincerò Sarà una cosa incredibile Ma se non riusciamo Possiamo anche Andare a fare l'altra gara Perché Mi sta veramente Tirando scemo E volevo comprarla Ho detto Ma sì Dai Ce la compriamo Sarà bella Poi alla fine No 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 Non è bella Ma non è bella Non è bella E non è bella Neanche da guidare Questa è proprio brutta Questa è proprio brutta Averla anche Anche nel Nel garage È proprio brutta No Ma dai Ma vai Ma vai Ma vai Ma vai Sbattere così Sul dritto Mio Dio No Ah Giù Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Ma che roba In barca Si imbarca Anche solo sul dritto Ma va Ma va Ma va Poi mi vengono addosso loro È colpa mia No No Qui Sono andato Quanto io Ah Non ce la farò mai Io Non ce la farò mai Ah Incredibile Si può aprire solo sul dritto Ma si può aprire solo sul dritto Eh Perché per viaggiare viaggia Comunque Ma chi mi ha preso Ma non è possibile Amici di Twitch Non lo so Non lo so Non è che Non c'era tanto bene Non interessa a nessuno Dovrei portarlo Probabilmente Su YouTube Penso Adesso vedo un attimo È un gioco molto bello Però Non ho capito È molto bello E poi Ci mette tre anni A A Premere la velocità Dai Ma non ti ho toccanto Amici Con la Ciapparat è mitica guarda qui come sono preso dalla solotane adesso arriva la mia bella mogliettina a farmi da intanto guarda non ci metterò tantissimo a sbattere non c'è il cattolo eh amore mio non ci sei tu come faccio a farmi stare a me no amore adesso non si può fare no amore no amore ok ci vuole il cattolo però ok raga dai 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 faccio passare un attimo dai dai raga dai raga forse la vedo buona non c'è il cattolo same cioè ha sì di to ah come si fa di guarderini mamma mia raga va bene secondo basso non voglio più non voglio più vedere questa gara incredibile bello lonti gatti visto giuri bello è tutto cattolato quindi stappate il logo e mettetelo sulle vostre magliette ragazzi è andato a farvi una mega una mega passeggiata e vedrete che tutti vedranno il vostro logo e vorranno chiedervi l'autografo credo l'ultima giuro perché mi sta mi sta un po rodendo il fattore che non sono riuscito a fare oro mamma mia va come si cartella è bello eh è arrivato grande pierre ciao a tutti mandorlatori chi non mi compra le mandorle devo andare a comprarmi le io raga o facciamo una bella colletta fate abbonamenti amici così vado a comprarmi le mandorle se volete amici abbonatevi e fate anche l'iscrizione al canale se volete giocare con me fatevi il vostro id e io vi mando il mio iban bella lì perché ma chi mi ha toccato dentro mi ha toccato dentro lui ma che cosa vuol dire se mi tocca dentro il computer è incredibile mi tocca dentro il computer ok e mi fa perdere a me la grande Pierpaolo mi tocca dentro il computer no raga è colpa mia prima era dopo più forte e poi l'avevo già passato sto scemonito qui adesso è difficile passarla perché mi si sbarella sta macchina devo metterla a 5 per forza non c'è verso e poi basta rifaccio una sola poi basta perché mi è davvero mi è davvero mi è davvero eeeh ma dai me l'ho fatta 100 volte ma com'è mai andata a sbattere è mai tanto di buono Pier eita 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 oggi ho fatto una mega live una mega giocata online e ho fatto anche la pista ecco la bot eita la bambam grande tor mamma mia torcio in mano una barca mi faccio vedere che rottano che ho in mano amico mio ma è la prima come lo prendo ma lo primo ma lo primo come lo prendo Thor ciao toraditore ti faccio vedere il rottame che c'ho a mano Thor grandissimo Thor guarda che rottame mamma mia che immacchia una mega canzone per la vita di Giulia allora ragazzi questa macchina è una lavatrice scaldino da campo incorporato a un frigorifero è un cesso incredibile scusatemi la parola perché sono molto family friendly ma questo è un cadavere ambulante una para con due ruote davanti è bellissima la piattaforma è un rilevatore di velocità con le ruote mamma mia grande 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 Thor grande Thor grande Thor che sei venuto con noi stasera bellissimo bellissimo allora miglior derappata questa l'assalto miglia del giro con la 9.11 ibrida la 24 ore di Le Mans a giro singolo qui che cos'è affrontano una lunga gara a monta una lunga una lunga che cosa vuol dire era qui una lunga che cosa vuol dire lunga 20 minuto no 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 ci possiamo fare questa però ecco la 900 è qualcosa i i i i da alle manna raga dai mitica ci fammo sondaggino come dice mitico tor ci sta e guardate qui quando parto io raga guardate dai spendete i vostri miti coin amici miei un sac da sprak da sky dai bisogna fare il pronostico l'ora per spendere i vostri soldoni ma non c'è che si può mettere i soldi comprate 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 le mot coibiti con i ragazzi mamma mia ma dopo quanti anni posso partire io fare sta gara ho capito che una 911 ibrida e quando lo prendo il primo dovrò correre con un pazzo amici miei io penso che con una macchina così posso anche togliere il tcs bellina sta ibridina eh raga non si vede niente perché un po la conosco la pista ma eh vabbè ma raga non si vede nulla caspita non si vede nulla dsc non si vede nulla ma come è possibile ma come fai a guidare da dentro guarda a parte che c'è il tergicristallo no no l'ho salutato prima o no è entrato prima questo è grandissimo dsc a parte che c'è quel tergicristallo lì che vorrei capire chi l'ha messo non riesco a capirlo facciamola da fuori va oh mio dio bisogna aspettare un minuto che partono tutti gli altri allora sono tutte Porsche noi abbiamo quella più fica ma deve essere dura questa gara perché le fa partire un botto di tempo prima il volante sembra il pad della Wii U infatti allora il tcs possiamo tenerlo anche un po' meno imperios allora il mezzo viaggia eh le ultime due sono quelle più fighe questa è quella normale e io ce l'ho la ibrida ok allora dai 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 ok ok amica mia vai che zotzeria ciao Manuel ah ah grande Manuel allora ho provato a guidare sta macchina dal dentro Manuel ma c'è quel tergicristallo lì? è nei due punte che non si vede una manca quindi la faccio da fuori perché se no raga questa non la portiamo più a casa sta gara sei a mezzo la paura questo qua eh questa se poi mi piace tanto me la vado anche a comprare eh perché io di porsche ce li ho ma non è che le porsche mi fanno impazzire vi dico la verità eh ma come viaggia il tipo lì davanti oh ma come viaggia? va come viaggia dai dai che le prendiamo in nel pezzo dritto dai cioè ma com'è possibile che che quella lì davanti viaggia più di me? eh dai dove è possibile c'ho anche la scia ciao a tutti Manuel granissimo cioè c'ho anche la scia ci vediamo guarda ah ah avete visto che è volato via ah è incredibile raga è stato bellissimo ah 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 è stato incredibile ragazzi avete visto volare ah ah che figata no 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 oh l'hai visto volare dimmi dimmi ah ok ah ok ok va bene va bene amico mio dai guarda la chat perché è incredibile la live perché è incredibile ciao ciao Kevin ciao amico mio dai un massimo ci sentiamo dopo ti va di giocare dopo magari ah no caspita tu non puoi giocare oggi va bene dai niente dai ci vediamo dopo ciao Kevin dopo vediamo dai eh sì dai domani ciao 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 amico mio buonanotte no buonanotte di seguirmi eh eh va bene raga ma quando li devo prendere questi qui scusatemi cioè quanto è un giro il nurbury non è 50 eh dai dai gas dai gas amica mia vipera Ivanessa ah 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 sì ma guarda quanto sono andati avanti ma questi c'hanno dei catorci ma com'è possibile che sono così avanti oh sta ibrida però mi piace un botto eh raga batte gli scherzi mantiene che è una meraviglia labbra di tuono grandissimo qui alla fine ma come faccio come faccio ad andare più veloce di così raga come faccio ad andare più veloce di così ciao Manuel caspita raga caspita ragazzi molto bella eh molto bella questa Porsche ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi se non siete iscritti iscrivetevi al canale se volete fare l'abbonamento fate un bel abbonamento grazie mille grazie mille al canale di Marco Trask qui non si vede perché abbiamo li attirati sulla video ma c'era il logo per se potare le speaker comunque il logo è quello di gigantesco il cartonato ok raga e è qui e dai ok cosa dite ragazzi facciamo un sondaggio la rifacciamo proviamo a rifarla a vedere se arriviamo primi amici miei io direi proprio di sì eh dai dopo vi faccio vedere 500 abbat vecchia non c'è non c'è appena esce Pierpaolo te la compro subito non aspetto neanche la live la compro e ti mando la foto ok ok raga lì sono una streghetta giubita lord vaporizzatore no basta l'ho smesso con le mele no no metti qui si clicci la cagnolina ha cambiato no qui cade lo spengo da dietro quindi se anche holly si gioca con il mod ora ga ora ga ora ga allora prima era volata fuori quindi sono riuscito a tenere a bada quello lì ma il primo non sono andato a beccarlo ci mette un minuto e otto prima di farmi partire devo andare molto più veloce nelle curve dai è indomabile la strada è un casino guarda io come gioco io non parco la cosa che hai fatto detto guarda come gioco guarda come gioco senza devi dire di più ah così lo devo fregare lo devo fregare un po' tagliando le curve raga vedi che lo prego lo prego un po' di più rispetto a prima ok me li sono levati un po' prima l'ordine 19 l'ordine 19 bellissimo ma vai a quel paese scemonito prima hai ribollato via e vai toccami dentro ancora ne mamma mia quando i bot si mettono a fare peggio della gente online io 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 bello guardalo guardalo mi butta fuori sto rincogliorito prima non rompeva le scatole perché era il prende la scia mi prende ma come fa a arrivare ma come fa a arrivarmi dietro così dai non è possibile gioco è un po' tosto è un po' bello macabro nel senso che sono belli cattivotti ma come fa stanno le 11 a viaggiare così tanto cioè dai non è possibile che non riesco a prenderla allora credo di essere un po' messo meglio di prima non riesco a capire otto secondi non ti imbarconare non ti imbarconare mi piace mi piace questa 911 grazie raga allora grandi amici miei guarda che roba ok vediamolo un attimo scusate raga mi riposo un attimo e ci vediamo a quest'oreplay con questa macchina che andrò a comprare io voglio questa macchina spero che si possa comprare che non è da qualche gara roba strana o che qualcuno me la regala che bella di rapaio allora questa è l'unica Porsche che adoro 911 ibrida è un proiettile e sta ferma guardate le traiettorie di Mark Drums Games sono incredibili incredibile un pediglio tagliettino di qua un pediglio tagliettino di là prendi un po' la scia guardalo guardalo badà sverniciati tutti e due qui adesso voglio vedere che cosa combinate è una figata una figata una figata forse intelligent performance hai ragione bel capolavoro tedesco la DGM Mori è una ditta che fa le macchine utensili ah vedi che stronzo guarda cosa mi abbia passato dentro sto parassita la GR si 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 la DGM Mori è la vecchia Mori Seiki fa i controlli i circuiti di lavoro torno fa le macchine dove ci lavoro anche io sicuramente la DGM Mori ma fissate è una ditta giapponese ma fatti facciamo anche vedere un po' a parte qui che gli ho dato una trambata perché mi ha fatto veramente arrabbiare perché qui ha veramente esagerato quello lì che si chiacchia lì è uno scorretto infatti gli ho dato paga e sta in giro e sta in giro anche il computer si è messo muto si è messo in muto no tra l'altro è dietro tra l'altro è dietro viaggia viaggia quella macchina anche quella lì viaggia si è quella prima della DGM della 911 qui ho sbagliato un po' qui ho sbagliato un pelo però diciamo che come motore è un bold avendo probabilmente anche il recupero della potenza oltre andare a motore a diesel andrà sicuramente anche a NAPTA è un goccio anche a batterie ricaricabili avete presente tante piccole dura certo ma per farvi capire le AAA ecco ci saranno dentro tante belle batterie AAA sotto il pianale di questa per far andare ibrida però è talmente stabile amici miei voglio farvi capire che è talmente stabile sta forza che è un piacere da guidare è veramente un piacere guardate anche poi come si guida cioè Marke Drums comunque le curve le prende abbastanza drammose drammose è un altro termine che userai che sentite dire solo nelle live di Marke Drums e io la vorrei provare oh bravissimo grande grande una bottolina invece qui sul divano in sala ci strimiamo perché io non ho mai voluto ragazzi chiudermi dentro una stanzetta per strimare oh mio dio scusami scusami non avevo visto ah si si quello si quello si quello si quello l'ho voluto dargli a trambare ma quello l'ho proprio trambato a posto fa di capire che è tronzo perché è partito un minuto e quaranta più ok raga eh si bellissima sta macchina tra l'altro ci sono quattro più che hanno fatto il tempo migliore di me e dovrei andare a vedere chi sono per eliminarli dalla mia lista amici no 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 allora ok oro oro questa qui è un disastro abbiamo fatto un po' di prove abbiamo fatto un po' di prove io vorrevo farvi vedere allora prima di tutto voglio farvi vedere le auto usate tanto per capire allora la bit l'ho comprata oggi ragazzi guardate che mezzo guardate che meraviglia vi faccio vedere che mezzo che ho comprato guarda amore mia cosa ti ho comprato questa per andare a fare la spesa guarda che bella eh ti piace amore no ah come no ma te l'ho comprata apposta con tanto amore con tanto cuore gialla gialla amore mio gialla o la macchina gialla maglia gialla o macchine gialle ho comprato oggi eh non ti piace amore mio ah che peccato questa questa te l'ho comprata per te amore per andare a fare la spesa è orrenda ma come è orrenda ma è bellissima è rossa amore mio è rossa come il tuo cuoricino amore mio poi ho comprato questa bellissima sport eh per andare a prendere il gelato con le tue amiche eh beh se siete in due se siete in tre l'altra deve venire come un'altra macchina oppure nel baule nel questa è carina eh dai eh amore mio il colore lo portiamo dal carossiere dai te lo cambio poi ho preso il deltone raga eh eh ragazzi ho comprato il deltone il deltone la lancia delta amore mio bellissimo la lancia delta bellissima poi ho comprato la marco ti vesti di giallo muore senza pigiallo pigiallo eh allora allora va bene se non lo piglio va bene guardate questa corvette bellina la corvette penso degli anni 70 fammi vedere che non ho letto 69 esattamente esattamente dopo eh grande giuli dopo ho comprato questa viper perché so che a te piacciono le strisce questa la 03 nel film si 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 poi la ferrari 430 si l'avevo già comprata l'avevate già vista e poi ho comprato questa diablo ragazzi qui è storia la diablo avevo il poster quando ero ragazzino che andavo in giro col mio malaguti 50 top colors con la marmita proma doppio scarico 14 14 pari di carburatore e le luci azzurre led con l'interruttore perché se ci fermavano gli sbirri era un casino eh ci davano la multa e allora io mettevo l'interruttore esatto esatto con l'interruttore e era una cosa veramente fighissima poi ho comprato anche questa mazza ma questa 8 competizione eh che questa che questa ci sta questa è gialla come la mia maglietta quindi ci sta si comunque non è che li scelgo se questo vende la macchina gialla non è che posso cambiargli il colore eh comprarla si va a comprarle qui che scegli il colore lì no lì sono usate amore mia usate macchine usate allora era la Europa la Porsche o Porsche Porsche dipende da come volete chiamarla la Porsche e questa 3 milions 3 milions ragazzi devo devo fare 3 milioni la voglio no quelle che abbiamo vedi che c'è scritto non ottenuta il libro non ottenuta non ce l'abbiamo ne abbiamo 7 milioni e 2 però devo comprare questa qui che vi faccio vedere adesso questa mi piace questa mi piace questa Porsche ciao amici di Twitch questa ce l'ho questa ce l'ho amici miei questa è anche una GR no club sport questa che cos'è una GR3 non lo so non lo so non lo so non c'è scritto ok ok baby non compro niente io stasera allora questo è quell'accesso che abbiamo fatto prima che avevo detto questo qui magari la compriamo ma è veramente brutta questa Alston Martin è veramente bruttina anche lei questa l'abbiamo comprata che è quella col terzo occhio che è bellissima questa ce la siamo comprata e voglio andare a provarla adesso andiamo a provare guardate che mezzo ragazzi che ho comprato questa 20 milioni è solo solo bella ma per averla dentro nel 20 milioni è davvero tanto la Ferrarina che in quantità limitata l'ho comprata ieri per paura sì sì bellissima la Mercedes questa qua vecchia è storia la mitica 205 che la conosciamo tutti ragazzi eh fantastica l'avevo già comprata la Mustang me la sono comprata e devo prendere questa 9 milioni e mezzo guardate che mezzo guardate che mezzo eh Bruce McLaren motorizzata BMW motorizzata BMW incredibile amore ti va di fare un paio di garette che devo andare a mandare un fax urgentissimo sì è per posta o te lo faccio qui il fax ah 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 dai con cosa con la Tomahawk dai però ti faccio quell'altra perché se no dovresti entrare uscire entrare uscire eh ti faccio quell'altra americana dai dai corre la Carla Daytona ok amo no aspetta no no ascolta ascolta non è la Daytona possiamo fare questa se vuoi ma come scusami ma non è l'america oh non si può cantare che bella questa cuore no ma non lo è questa è Blue Mountain così puoi fare quando finisci vedi sono varie varianti ma quella che piace a te è questo 12 e 30 e te lo faccio a difficile ok è la Tomahawk no sono tutto il Tomahawk no aspetta facciamo facciamo una cosa così raga eh sì ah no un minuto tata due minuti comenta a fare ciroba amore mia ti faccio vedere come gioco bravo vado a prendere perché si vuole arrivo subito amici miei eh tempo di mandare un fax urgentissimo ah la mia costruzione è in America tieni metti questo aspetta che devo aspetta devo far partire com'è x x x x ma perché mi adatto i roba qua da sentire chi c'è se non sentire se non la dirige non sento ah ok tanto non so niente da commentare ragazzi non sono brava come Marca l'esbre anzi ragazzi che guarda che guarda che guarda che guarda non so che guarda che guarda che guarda Non riesco a leggere davvero, non so come faccio a mazzo, è bellissimo giocare con i volanti ti amico mi piace Sì. Oh mamma mia! Ciao! Maurizio, ciao! È andato di là Marco un attimo e torna, comunque glielo dico. Ciao, ciao! Marco non c'è, c'è la Bragalli a fare un po' di skate per comprare una macchina nuova. Comunque grazie, lo saluto. E vai, vai, che non sono stata male, ragazzi, scusate. Ciao, 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 buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro. Vediamo qua. Ciao, Zane! Hai visto? Come l'hava mandata, amore? Di Master. Buonasera, signorina, buonasera. C'è un po' arriva, c'è un po' arriva Drums. Facciamo un po' di credito. Un po' di skate, così compriamo un po' di macchina nuova. Povera gente. Cioè, come si fa? No, ritroviamo. Aspetta, un giro di prana, dove è? No, come c'è? No, come c'è? Inizia, vai. Dai, l'ultima prova, ragazzi, supportatevi un po'. Dai, 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 dai. Dai, che cerchiamo a fare, credo che ci fanno un'unica, che ci fanno un'unica, che ci fanno un'unica, che ci fanno un'unica questa volta. No, non c'è un'unica, che c'è un'unica. No, non c'è un'unica. Porca miseria. Non prendo 52.000 per il mio log, devo ripare di nuovo. se lo disfrutta la macchina amore poi la mandiamo in preparazione sai che bisogna fare la parte destra Marco, tutto bene? ok cioè, ti vorrei qui, mi sento sola vai amore Sì, è un po' tutto, è scusato, è scusato davvero, l'altra, è una pulga, se fossi quell'altra si deve mandare a... Sì, c'è una locura a leggere e andare a 3.5 all'ora, è come mandare a mettere tutte le spuline a schiapare la morte, non so come faccia mappa a leggere, sinceramente, è veramente un batterista Amore, un po' ti ho fatto 32.000, non 52 che questa volta mi ha toccato i robot, i bombi No, dov'è l'hai con questo? Solo 1.000, ma perché non mi dà più crediti di prima? Emma! Come si fa a scegliere un'altra pizza? Eh, dov'è un'altra pizza? Eh, dov'è un'altra pizza? Eh, dov'è un'altra pizza? Eh, un'altra pizza, no? Sarà più? Non paga più come prima! Da un credit di tipo di 1.000! Gara ok! Ah, ok! Allora, proviamo a fare di nuovo, dai! Allora, proviamo a fare una gara pulita, dai! Così, marco è così! Sì, ma prima paghiamo di più! Sì, ma prima paghiamo di più! Sì! Sì! Sì, ma loro mi soffrono! Sì! Sì, ma loro mi soffrono! Mi soffrono! Perché... Esatto! Sono loro che mi soffrono! Cioè! Ma perché mi fanno qui? Mi fanno qui! Oh! Perché non lo metto quella? Se faremo come una pasta? Cioè mi soffrono loro? Sì! Sì! Eh! Sì! Sì! Ma io ce l'ho detto! Sì! 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 Ma che moriamo queste macchine a fare? Non si! Sì! Sì! Oh! Sto andando bene! Allora, io ho toccato il mio schieno, ho pagato il loro! Sì! Poi è danno buono! Ma in più, non si è andato! Allora, intanto, il papà di Morisi è salutato e tornava a lavoro! E poi entra qui! Sì! Non so come fai! Sì! Non so come fai! Perché non so come fai a giocare, a leggere, sta roba! Non so come fai a giocare a leggere! Vamono! Puta! Non so come fai un po' morta! L'affiancata non esiste più! L'affiancata! Però va bene! Mi sono assalto a giusto! Ma vedete che sto mentre fai un po' tardi! E ora fai un po' di risparmio! Ma non so come fai un po' di risparmio! Ma non so come fai un po' di risparmio! Non so come fai perdere la concentrazione! Ma non so come fai un po' di risparmio! Però scatate! Non si sa che di risparmio di risparmio! Io ne ho visto la parte mafiancata! E' un po' di risparmio! Ahhhhh! E' un po' di risparmio che è sembrata! È un po' di risparmio a metà! Mi sono trovato! Non so come ti vedo qua! È un po' di risparmio! No, non so! Ti devi prendere qua! andi! Sì! Mi sono trovato! La mette è struttura! No! Vieni qua! pulita grande 2.800 pulita metteva l'altra erano 150 dai stane una una panamerica volete vedere che vuole ragazzi sulla panamerica le devi toccare altre auto e se loro ti toccano va bene tu non le puoi toccare grande dottor master assolutamente assolutamente dottor master l'ho fatto anche ho fatto anche un mega dottor master ho fatto anche un mega come pare se tanto con la gomma l'ho fatto anche la gomma è un'altra che è un'altra che è un'altra che è un'altra che è un'altra e quando ti porta a... si la frutta è... ah la frutta è da mano è destrutta il nudo io non faccio vedere io non faccio vedere io non faccio vedere 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 uh e oh Grazie a tutti. 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 Secondo il mio punto di vista, facilmente 725.000 crediti, ok? In meno di 25 minuti. Grazie a tutti. 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 La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. la tengo, la tengo, la tengo. teoria perché non ragazzi allora è tutta coppia ok attenzione agli altri brava brava marcello bellezza mio ormai tutto bene a bella lì ragazzi c'è anche il mio cognato del brasile grande rio di genero ciao ciao marcello ciao amico grande marcello tutto bene tutto bene a braga di visti io come boa brava bravo poppa porca loca mister rubel mi è venuto addosso speriamo di non aver perso il bonus ragazzi ciao e sto leggendo ragazzi ah grande grande grandi allora penso di aver perso il bonus eh sì ma primo giro è stato un tosterello eh tosterino tosterello vabbè fa nulla tanto ragazzi se perdete il bonus sono 500 e qualcosa eh dici eh no a volte non le calcola non le calcola a volte allora se vedi come urla è tutto regolare è stata limitata di potenza per consumare poco tra l'altro poi si potrebbe anche usare il nostro così consuma ancora meno però un stop bisogna farlo per forza fare benza grande marcello brigado per leggere ragazzi i messaggi a chi no raga mi devo rifare tutto il sorpasso dai rifamono perché tanto sono 15 giri ho saputo più volte per un'area malissima eh che prendi sì a volte invece ti branca dentro loro non te lo dà cioè vabbè questa è un po' allora io credo di non prenderli ok perché è vero che uno l'ho toccato dentro di striscio qui ma l'altro l'ho proprio brancato dentro quindi tanto alla fine della fiera sono un sacco di soldi eh anche senza avere il bonus lo facciamo lo stesso al massimo poi ne faccio un'altra gara se poi recupero la pagani voglio vedere come si fa con la pagani perché ti giuro sì però così è troppo lento la macchina eh ma ti tiene strada ti tiene strada vedrai che poi alla fine vinco facile e sto anche sbagliando tantissimo è perché vedi che mi sto parlando e tutto il rio de janeiro ah ah grande vercello e poi ti dico che è davvero difficile correre bene leggendo i messaggi eh ah ok c'era la pubblicità no ti stavo dicendo che sì hai ragione che va piano ma è fatta apposta per consumare poco per non andare a sbattere perché poi alla fine sta macchina è un siluro è un missile quindi se tu non la usi depotenziata davvero è è un disastro guidarla eh adesso sto guidando un po' a cavolo eh vedi che vado un po' fuori eh non sto facendo bene poi sto leggendo i messaggi comunque vedi che ho preso primo eh allora se poi vuoi un grado di sfida alto te lo metti a normale o difficile l'intelligenza artificiale e te la giochi proprio giocandola se invece vuoi farmare soldi come quello che ho messo nei gruppi di gran turismo sette ufficiali e non ufficiali te la metti a facile così non rompono le scatte l'intelligenza artificiale e ti fai un botto di soldi perché alla fine poi certe macchine si pagano care e se si vogliono comprare tutto come vedi che ci sono quelle da 20 milioni o si ha tempo di giocare tutti tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni oppure devi un po' a farmare eh perché comunque anche gente veramente brava che conosco se la fa la pista per farmare i soldi perché se no non compri i bolidi io dopo ho comprato la mercedes quella da 6 milioni e mezzo volevo andare a provarla eh se poi rimani qui anche dopo comunque vai tranquilla te la pagai oh cazzo ci stavo leggendo ah ok dico tra l'altro io ho comprato anche la glk eh tra l'altro dovrei provare anche con quella mercedes che non ho ancora provato forse 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 allora diciamo che con questa fai veramente easy eh perché vedi poi le marce come sono come sono settate ciao 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 marcello obbligato marcello un beccio a tutto mondo io eh dai un beccio a a a a a un beccio a mamma eh tutto mondo a mamma eh più tempo eh tu quanto ci metti quanto fai totale perché è sicur' vero che ci mettiamo più tempo che qui non viaggia non è ancora provata eh possiamo provarla in live possiamo provarla adesso andiamo a vedere se ciò possiamo provare eh la la clk che l'ho comprata da 6 milioni e mezzo eh dieci minuti no non credo eh oh dieci minuti penso di no adesso non lo so allora se con questa qui ci metto 1.35 se non sbaglio vedi perché comunque 1.42 1.43 sbagliavo è anche una questione proprio di fare pit stop eh allora io in rete ho messo questa informazione e la rete l'ha presa bene nel senso che stanno vedendo un sacco il video e un sacco mi stanno dicendo eh mi stanno ringraziando perché comunque è una figata sui paesi sinceramente non ti so dire quanto in quanto tempo la si fa ah ok 20 minuti si sta sai che se giri bene con questa qua sono 22 minuti l'ha fatto a Kevin il mio amico che era dentro prima adesso non so se Kevin c'è in live Kevin ci sei vedi tipo qua sono andato a sbattere se tu non vai a sbattere può sapere tutto il tempo recuperato eh cos'è che hai scritto mo? ah dottor master se vuoi giocare con me possiamo scambiarci tanto io credo che ti sei iscritto al canale vero? possiamo scambiarci di di che noi facciamo le gare insieme eh oggi abbiamo fatto la gara con il mitico Phil e il mitico Manuel Maurizio il mitico Copani Morris e il mitico Charger Charger che sono tutti amici di Twitch eh ottimo dai se sei iscritto dopo dammi il tuo ID ci scambiamo l'ID oppure vai pure su PlayStation Network e aggiungimi tu che facciamo prima che è meglio cerca Marco Drums ho il mondo di LittleBigPlanet e il mio logo ok? se vedo la tua iscrizione e la tua richiesta di diventare amico sulla PlayStation poi ti aggiungo nel gruppo amici della Play che poi tra l'altro ragazzi è una cosa bellissima che ho creato io che faccio io di giocare insieme a voi ah amico mio quella è tosta eh quella è tosta quella è tosta davvero quella è tosta quella è tosta allora sei giri ancora comunque davvero dottor Master se vuoi aggiungimi che bagnate sì sì no l'ho vista l'ho vista come l'ultima è veramente tosta allora il mio grado di giocabilità è abbastanza buono no? eh infatti brava il mio grado di giocabilità è abbastanza buono però perdo facilmente la concentrazione anche perché poi devo leggervi mi piace tantissimo leggervi e rispondere in live a tutte le vostre domande e a tutte le vostre cose no? anche perché poi ci facciamo dei live delle belle ghierte di sicurissime grande lord il Pier Paolo la mitica Giulia la Bragali il sacco di sicure no? e però anche facciamo delle belle delle belle live che giocano insieme a voi perché se no poi diventeranno un po' noioso no? e allora capito dottor Master visto che è un po' che mi segui mi farebbe piacere che mi mandi da invito di PSN e quando poi facciamo e organizzo le gare online tutti i colleghi in live ci giochiamo insieme ah e vabbè te la fai tu oppure entri a giocare con noi tanto io sono sempre in live quindi non c'è problema almeno giochiamo tra di noi ci divertiamo ci sentiamo le parti ci facciamo delle belle delle belle garettine delle belle live insieme ciao amici di qui sto correndo con questo mezzo incredibile che è una figata assurda che la Tomato oh ragazzi chi è schivata mi è venuto l'impatto allora non devo brancare dentro gli altri per fare 725 mila ma se anche brancare dentro qualcuno a meno che lo fate al primo giro che potete riavviare fa nulla allora sentite il motore che sbraita sbraita è stato fatto apposta perché se voi correte esatto brava ragazzi se voi correte con una macchina normale dovete veramente sudare per fare sta gara con questa assolutamente no anche perché vedete che io sbaglio vado un po' fuori e non succede niente con primo con tanti secondi e abbiamo tutto il tempo di andare dentro ai box a fare grande grande vero bragari grazie grazie però possiamo anche provare con una macchina un po' inferiore a questa qui per divertirci un po' di più il discorso di fare soldi easy serve per comprare le macchine adesso io devo fare 2 milioni e mezzo per potermi comprare 9 milioni e mezzo della mclaren che c'è sulle auto storiche prima che me la tolgono e allora praticamente volevo grande giuli grandissima giuli siete voi grandissimi amici di twitch allora io devo vedere di entrare dentro e farla benzo perché se no scherziamo e qui se rimaniamo senza diesel questa macchina va addirittura mi sa che può andare anche di alcoletico Kunix Engagera eh sì eh sì beh ogni mese dovrebbero fare aggiornamenti come ho fatto adesso visto che hanno aggiunto le cose del circo un po' di roba l'hanno aggiunta dopo tu devi calcolare che le macchine possono sempre aggiungerle come ho fatto nelle auto usate o nelle auto storiche bella l'inord grandissimo notte 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 dai ci vediamo domani ci vediamo domani mezzo mio ciao 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 ma anche la giuri stacca o rimane un po' con noi la giuri giuri stacchi e stai qui con noi ancora un po' però c'era già da subito eh sì eh sì eh lo so lo so ma infatti questo è un po' il Gran Turismo Sport portato a quello che era una volta collegare e tutto il resto ma alla fine l'online è il Gran Turismo Sport eh parliamoci chiaro il Gran Turismo Sport è un pezzo di questo fatto prima per testare i server per farlo funzionare per provare tutto il fatto bene e poi hanno fatto questo giuri sulla base del Gran Turismo Sport però è talmente bello di gameplay oh no giuri va bene dai buonanotte ciao mitica allora io volevo provare con la CLK eh che è un mezzo da paura perché la Pagani se non sbaglio l'ho comprata buonanotte Giulie no l'ho comprata ma devo tipo Lambo allora la Lambo non riesco a tenere la strada non so perché quando freno mi si mi si impianta dappertutto anche oggi stavamo vedendo insieme i ragazzi nell'online loro quando acceleravano in quella curva Ferrari assolutamente Ferrari assolutamente Ferrari assolutamente Poi mi piace tantissimo la Supra la Mazda la Concept quindi faccio l'Urgur Ring Nord e Nord Slype ciao amica ciao amica mia ciao giuri buonanotte dai ti aspetto domani domani se ci siete ci vediamo domani in live grandissimi buonanotte 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 e vi faccio il NURBO Green ma adesso il NURBO Green Nord c'è anche come diceva il NURBO Green e che lui è tedesco è vero o no? cacchio è incredibile quella macchina ma non ho capito perché perché quando Freddy gira ma è così anche nella realtà mi fanno correre con quella macchina incredibile ciao amici Benvenuti ragazzi capisci? non riesco proprio a concepirla quella macchina lì che tu vai a frenare in curva e ti ci gira allora stasera ho provato ti dico un'altra ti dico un'altra oggi perché l'amico Phil mi ha consigliato ok di comprare la Subaru GR3 se stiamo lavorando con i freni eh sì meglio le impostazioni eh sì poi alla fine se vuoi andare forte c'è poco da fare amico mio devi devi andare e provare cambiare le impostazioni o trovarle su internet di gente che è stata lì a spazio a fare le impostazioni e e e adattarle un po' al tuo stile di guida perché poi dopo comunque non è che quello che si trova su internet va bene per tutti io quello che che è proprio una cosa che non digerisco delle delle Lamborghini che mi piacciono un botto è questa cosa che quando vai a frenare e sei sul dritto e c'è la curva e ti si imbranca lì cioè quella roba lì proprio non non riesco a sopportarla quindi per la verità ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi della lì delle Lamborghini è proprio una cosa invece ti stavo dicendo ho comprato là la Mitsubishi GR3 e ti devo dire che poi alla fine ho fatto ho fatto una vittoria sugli amici Phil e l'amico Charger perché viaggiavo viaggiavo tiene bene la strada sta dentro non fa cose strane eh e quindi viaggiavo viaggiavo bene con quella lì e mi diceva anche Phil che sono tutti amici di Twitch eh perché per te lo che ti dicevo se vuoi giocare con noi poi dopo si può anche fare amici miei iscrivetevi al mio canale lasciateli di eh oppure iscrivetevi andate su su PSN aggiungetemi sono Marco Granz anche su PSN e poi il mondo e il mio logo così possiamo giocare insieme iscrivetevi però quando mi mandate la richiesta che volete giocare con me a Gran Turismo 7 era 7.10 su Twitch se no poi dopo vedo un sacco di richieste e non vi accetto magari perché è gente così che mi vede giocare online e mi manda richieste così a caso e sì i settaggi vanno fatti io ne ho fatto uno della F40 che veramente va forte e le Ferrari mi piacciono mi piace anche la Porsche ibrida la 911 che ho usato prima è veramente un proiettile anzi la 911 probabilmente fa tanta roba effettivamente dovrei comprarla è perché voglio prendere la 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 P10 la P la cosa si chiama la BMW quella che vendono nel dai caspita vedi come si fanno i bot mi ha tornato davanti si mettono i bot ok andiamo qui allora non cambiamo le gomme mancano quattro giri ma abbiamo talmente tanto tempo che posso fare il pieno proprio easy 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 niente gomme solo benza ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi ok solo benza ok benziro fatta assolutamente sì 11 giri pensa a te che roba belli carichi andiamo a vincere questa gara facendo tre giri siamo in Sardegna siamo con la Tomahawk della Dodge e poi tra l'altro se andiamo veramente a vedere bene sarebbe della Fiat perché fa parte del gruppo Stellantis che fa parte del gruppo FCA TSA è la Fiat Tomahawk un po' come Fiat Panda ma questa qua ha 1786.000 cavallo in più ed è fatta un po' meglio anche se il Panda ragazzi non si tocca è forse l'auto più bella più massiccia più durevole e più assurda che è stata creata al mondo tipo anche come il maggiolone Volkswagen e poche altre macchine sono veramente poche macchine iconiche o come la 500 anche la 500 vecchia chi ha la fortuna di avere ancora una 500 vecchia ha in mano un pezzo di storia oltre anche una macchina ancora funzionante con 4 kg e 4 botte al motore quella va sempre certo non sarà Euro 4 Euro 6 Euro 7 Euro 8 madonna questa figura spoglio sempre a farla mi sta venendo anche la tegninite quasi si si la Panda è qualcosa di mortale hai ragione mi ricorderò sempre che il mio vicino un po' vecchietto poverino che adesso non c'è più era andato a sbattere contro il cancello d'entrata e sopra il cancello c'era una specie di pezzo di marmo sapete quelle pelle che facevano una volta fighissime no praticamente vabbè è andato a sbattere poverino gli aveva un colpo di suono o una roba del genere è caduto tutto il pezzo sul panda verde quindi anche il colore verde col verdone lì proprio che usavano col panda bruttissimo ma probabilmente anche lui è tipo un colore immortale e niente fin dalla storia quando abbiamo visto il pezzo per terra ho detto madonna ha spaccato la macchina adesso cosa devi fare no no non ha fatto niente si è appena piena graffiata ragazzi io vi faccio vedere il pezzo che è venuto giù se era una macchina normale era praticamente 26 mila euro di danno qualsiasi macchina perché era sfondata sfondata il panda non le ha fatto fatto infatti siamo rimasti un po' male anche lui sinceramente ci è rimasto perché quando è andato giù a vedere che non si era fatto completamente niente la macchina ho detto madonna il panda è proprio una macchina con controchiocchi ed effettivamente è vero ah ma questi botte sono una cosa incredibile allora io credo di andare a prendere veramente poco da sta gara però vediamo un attimo vedi qual è il problema che qui se la macchina va troppo alla fine della fiera bisogna veramente frenare forte allora se vedi bene ahiaiai che questi entran dentro anche a fare benzina e ti mancano dentro alla fine della fiera il giro buono 1.33 se stai attento non vai a sbattere come faccio io perché vi devo leggere tutto e vai tranquillo 1.33 per 15 giri bisogna vedere con un'altra macchina che va più veloce ma che è magari meno gestibile vediamo un attimo sono proprio curioso di vedere quanti soldi mi dà e magari farla con con la con la CLK magari dobbiamo farla dopo con la CLK magari è fatta diventare tutto la vita è solo che è 6 milioni e mezzo e non so neanche se è limitata mi sembra adesso quindi tra un po' sparirà anche dallo store delle macchine delle macchine storiche senti che questi qui ragazzi fanno di tutto per farvi per farsi andare addosso ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi stiamo correndo con la Tomahawk sul circuito della Sardegna oiaiaiai guarda quello lì per fare soldi molti molti soldi amici miei se tutto va bene 725 mila in quanto abbiamo ci abbiamo messo penso 25 26 minuti ah si può quelle online oh che bello c'è chi crea la lobby può buttare fuori quelli che gli scorretti e quelli che entrano dentro a far casino bello 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 eh ragazzi bisogna aspettare dottor Masters bisogna aspettare un po' che anche loro devono fare tutte le patch correttive tutte curare i server un po' tutto insomma bisogna avere un po' di pazienza che vedrai questo gioco è già meraviglioso così diventerà perfetto diventerà perfetto io non vedo l'ora di poter testare forza Horizon o no forza Motorsport 8 per vedere effettivamente se può competere con questo o se può essere un altro gioco di corso la fortuna vuole eh infatti 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 sì sì ecco le impostazioni di server che penso che pian pianino ogni patch che fanno migliorano sempre un pochino eh per restare un po' attenti si fa si fa anche meglio solo che parlare leggere fa tutto è un po' complicato è un po' complicato vediamo un attimino che è un po' 34 ok l'ho vinta facile perché è un po' lo scopo è fare i soldi questa è la mitica Tomahawk bellissima tra l'altro è una concept quindi non esiste nella realtà 7,27,500 vedi dottor Master che quello che ti dicevo che è un po' strano come come capisci io sono andato dosso 2-3 persone però me l'ha data buona lo stesso per fortuna per fortuna e ho 8 milioni si fa si fa la faccio altre tre volte adesso praticamente posso comprare la 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 vabbè tanto è inutile che vediamo il replay vediamo un attimo 20 caspita c'è la mia foto aspetta che voglio vedere un secondo sposto un attimo la mia la mia foto 24 minuti e 40 24 minuti e 40 ragazzi quindi volendo vedere se si va un po' magari un po' più veloce ai 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 quanti cavalli vuole 800 vediamo un attimo vediamo un po' dottor master di tirare giù un po' vediamo se se riusciamo arrivare proviamo proviamo se però vedo che si fa fatica abortisco ok vediamo un attimo come si comporta questa CLKLM98 come dicevi tu ecco già mi fanno girare vedi già è bagarre te la devi proprio giocare con questa macchina quindi vedi quello che intendo qui se vuoi farti una bella corsa fatta bene te la devi giocare quando vai a fare la benza con solo 6 giri quindi praticamente bisogna fare la benzina due volte la strada tiene però vedi che non riesco a dargli via allora di com'è credo faccio un giro e poi andiamo a testare quella sì beh chiaramente vedi che l'ho passato e si riesce ad andare a prendere anche gli altri cioè non è che adesso dico che però te la devi giocare alla grande e poi PIT oh cazzarola non si vede niente da qui queste gomme qua così vediamo questa ultima curva com'è io a questo punto ero quasi primo con l'altra auto eh eh sì per poter rientrare eh ma allora diciamo la verità li ho presi eh cioè non è che che sono anche a potenza 6 eh per poter risparmiare un po' sulle sulla benzina beh quello è vero sì si consumano abbastanza facilmente le gomme la pagani la pagani ce l'ho che altro bisogna vedere se è gestibile nel senso che questa ma dai ma mi fanno girare ma l'hai visto ma vai a fare quel paese ma bot la pagani la pagani r ah la pagani r dovrei andare a vedere perché io ce l'avevo il biglietto della pagani l'ho preso dai dai cosi dal procedimento non lo so non lo so facciamo il secondo giro e sono ottavo secondo te li prendo li faccio ce la facciamo parla o abortisco e proviamo con la pagani cosa mi dici dici che riesco a beccare i primi vuole molto di più 1,51 sono andato bene vedi vedi dottor master proviamo a vedere se ho la pagani perché se devo comprarla sinceramente voglio comprare prima questa che ti faccio vedere adesso guarda ti faccio vedere cosa voglio comprare eccola qua questa amico mio mamma mia è clare del 69 ragazzi che mezzo che mezzo guarda che bella mamma mia una cosa veramente fighissima fighissima questa è veramente bella questa la voglio guarda che mezzo anche di fianco domani la compri? ce la fai già comprarla? anch'io domani adesso farmo un po' allora fammi vedere un attimo pagani è questa che ti dicevo che ho comprato oggi la subaru ah due milioni la devi farmare un po' allora io ho comprato questa oggi la subaru e sono uscito scusate e ho comprato anche questa ti faccio vedere ho comprato la uracan non riesco proprio non riesco proprio a stargli dietro stargli dietro con la macchina lì dov'era la quella era la subaru si la mitsubishi eccola qua la lancer questa ho comprato è bellissima tiene veramente veramente bene la strada allora vediamo la pagani pagani in teoria si vede proprio a colpo d'occhio perché ha un design assurdo quindi la pagani dovrei vedere io credo di averne comprata una no allora ho il biglietto ma non ne ho comprata neanche una penso proprio di sì ragazzi no la pagani non ce l'ho non ce l'ho vediamo un attimo no assolutamente non ho la pagani andiamo a vedere un attimo quanto costa pagani orassio pagani è qui da noi in italia nella regio emilia con le parti lì adesso non mi ricordo a la r tu dici questa la zonda r un milione e otto sì io posso ah la questa qui era la uaira che era col biglietto la zonda r si può comprare sì beh allora diciamo che le comprerò tutte e due sicuramente ma adesso non la compro perché un milione e otto questa è stradale e questa è la corsa sì effettivamente è questa la differenza molto bella molto bella tra l'altro sì c'è solo un colore bellissima wow che mezzo che mezzo che mezzo sì sì diciamo che si può acquistare si può acquistare io volevo vedere un attimo invece di farmi una garetta così tanto per a nurburying nordish life mattina io con questa macchina farei a mio intermedio perché sinceramente non so non l'ho mai provata e non so come si comporta il nurburying mi hanno detto che è un fuoco è un fulmine è un fulmine però mi sta mettendo tutte le stesse macchine cazzarola madonna un proiettile è stato però frenare ragazzi miei ci vuole un topo bel mezzo ma è tosta tutte le macchine uguali poi di solito ti mette tutte le macchine scacce no a nurburying north life e non frena e non frena e non frena quando la passo che faccio un solo passo buonissimo e non frena e passatevi ma sì tanto che ve ne frega voi c'è anche uno sulla destra e dove ti passo dove ti passo dove ti passo che mi fate anche sbattere oh oh che bordello ho combinato qua i boss anche i boss sbottano uh raga questa è tosta cazzarola oh ma è sempre colpa di sto scemonito che mi frena nelle curve ma come frena oh ma allora ma puoi tirare un po' di fiuri testina non frega tanto 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 poi non me la ricordo tutta perfetta che è talmente lunga che si passano pezzi a tavoletta a pezzi di misto infatti credo che chi fa sta pista deve avere del pegato oi oh mi ha buttato fuori non lo prego giusto bomba comunque è troppo figa si 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 è fighissima scusa sono uscito per leggervi è assurda purtroppo il nord's life ragazzi non riesco a leggerli scusate perché se vado a leggere è talmente a destra e a sinistra è una bestia ma come sta fir lasciando stare che ho fatto un po' di sbagli è proprio ferma sta incollata sta incollata il problema è anche superare su sta pista si becchi resti resti oh oh tra un po' arriva il filino eh ancora il filino guarda che roba come sta attaccata sta attaccatissima puoi lasciare stare che adesso è intermedio quindi probabilmente se era a livello difficile li avrei beccati un po' più davanti ecco il rettilineo che mostro che mostro me l'avevano detto che era un mostro me l'avevano detto stabile che bello ragazzi ci vuole fare tracetto allora sta pista eh raga oh ho canato l'ultima e vai si va a vincere e vai si va a vincere mamma mia mamma che mezzo che roba andiamo a vedere un pezzo di replay perché ragazzi tanta roba vedi fare fare 10 minuti di nurburying 8000 crediti capisci dottor master non si può fare cioè ok qui mi aveva fatto partire un po' strano e quindi qui il problema è che se siete attaccati quindi anche superare è un livello bozello poi il giusto è uguale che va ancora di più che lo posso sicurare perché l'ha preso il mio giociro l'ha provata oggi ha fatto tutti i temponi sul nurburying e sul circuito mondiale la bmw si la mclaren motorizzata bmw la mclaren che è un bolide anche questa alla fine questo è il mercedes che ha vinto un sacco questo è il mercedes che ha vinto un sacco infatti sono le auto storiche dopo hanno fatto l'evoluzione che era quella che si era impennata ti ricordi che c'era stata una Mercedes che si era impennata alla remanda se non mi ricordo se era 24 ore di remano un nurburying se non mi ricordo più qual'era però mi ricordo che se n'era impennata che era un'evoluzione di questa che poi non è stata una macchina che non è stata questa questa è stata proprio un capolavoro sono quelle cose che secondo me neanche loro si aspettano di aver fatto una macchina così belle così fatta bene tutto ma poi in realtà l'hanno fatta quindi quelle cose che fa che anche se sbaglio o comunque che inizia se poi vengono portate all'emunizione e non sempre e non sempre è bene e poi chiaramente crescono anche gli altri adesso parliamoci chiaro non è che gli altri sono via a guardare come per dire adesso che prima di fregare la formula uno vedete se la terra si è tirata qui perché pare a guardare allora scusate raga ho sbagliato il tasto molto bella molto bella molto bella diciamo che le auto che è questa qui qualità limitata quindi ancora per poco poi la faranno sparire CLK LM McLaren Mercedes ha partecipato anni 90 alla GT1 l'apice delle gare Gran Turismo costruttore auto stradale per mettere la competizione le auto prodotte per questa categoria sono delle vere proprie auto da corsa ciao amici di Twitch il precessore CLK il modello GTR è stato prodotto nel 97 con gli stessi presupposti quando il campionato ciao lo stesso anno vince il titolo e con la modifica con il motore V12 il 2A V8 che hanno il testo la CLK per il 98 bla 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 vabbè io voglio comprare questa ragazzi quindi domani credo di riuscire a comprarla che è la Bruce McLaren fondatore della McLaren si chiama Bruce nel 69 progettare auto da strada nel 79 auto da corsa camham modificate tuttavia ne furono pochi prototipi e il suo sogno è arrivato soltanto negli anni 90 quando ho fatto questa qua con la nascita della McLaren Formula 1 divisione stradale progettata da Gordon Murray Monti ha considerato che la F1 la migliore supercar del mondo e questa F1 GT era la versione da corsa della McLaren Formula 1 la serie Funer prodotta potenzialmente 600 il motore il motore del McLaren fu costruito da BMW è stata guidata anche dalla scuderia BMW la linea fina che vediamo è nota per la sua bellezza corsa popolare BMW ok questa la compriamo domani ragazzi quindi diciamo che dai facciamo 23 gare la prendi eh si 2-3 gare la prendi esatto 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 infatti voglio proprio andare a fare un paio di gare allora una la facciamo ancora in live insieme dopo ragazzi io vi saluto la facciamo con questa qua perché ho visto che come ti dicevo che guarda come si fa facile dopo comprerò anche la Pagani eh comprerò anche la Pagani perché sinceramente è una bella macchina poi tra l'altro avendo anche il biglietto posso comprare anche la Guaira o Haira Guaira però la Guaira è tanta roba è tanta roba anche lei avendo il biglietto posso comprarla vedi allora l'altra la CLK non aveva sto spunto sapessi perché ti dico secondo me di prenderti un bioncino questa qui e modificarla come il video che ho fatto che lo puoi trovare tranquillamente su YouTube il mio canale è Marco Grandin oppure lo certi come Marco però lo cercherai se non te lo fai trovare come Marco Grandin è da poco ci sono ti scrivi e ti guardi il video con i settaggi di un sito per questa macchina fa perché per poterla fare rientrare con il TGP che è un messo pazzesco senti il cambio come ho dovuto portarlo un po' senti come sono veloci i rapporti che come ho dovuto mi mirare la sesta perché solo mi mirando la sesta ti fa rientrare guarda che guarda che è finito guarda che è finito guarda come si mestono è una cosa assurda come guidano il botto guarda che si mi sportellano questo mi è venuto addosso è incredibile incredibile ah ok ok eh dipende da tante cose sinceramente prima era era molto più stressante ti dico la verità FCLK perché è facile che magari ti fai tutto il tempo e poi non fai 625.000 diciamo che potresti usarla questa qui per farlo tipo adesso tu vuoi quella là BMW McLaren da quasi 10 milioni ok calcola che fuori da 3-4 giorni da quando c'è la patch calcola che all'incirca una settimanella poi le tolgono così easy facile fai soldi facili è easy eh farli facile guardate easy facile easy facile questa roba è incredibile di là devi giocartela quindi devi vedertè poi alla fine della fiera se il gioco vale la candela perché poi se te la vuoi giocare proprio giocata ti metti a confronto e ti metti a porca roca non mi ricordavo più sta curva qui quindi io adesso sto parlando sto catteggiando se avevo già quella macchina là non potevo farla dovevo essere più tranquillo invece qui basta tornare un po' prima senza arrivare all'estremo non serve neanche frenare tantissimo un po' di corcolino comunque è divertente lo stesso capito la formata nel senso non è che te lo sta guidando o fare quella là ovale no che vabbè 52.000 lo facevi in 3 minuti e mezzo però alla fine una pista ovale cioè va bene tutto ma questa è un po' più giocata no rispetto a quella ovale quindi chiudi che tutto me sì ma chiudi grazie capito quindi secondo me è anche poi come come giri se tu vedi qui era partita a 7 a 8 giri o qualcosa se non sbaglio o 9 giri non lo so quanto più da 15 giri quindi alla fine della fiera anche proprio come consumo di benzina non è che te la giochi no davvero e come fai ad avere il il biglietto a 6 stelle io al massimo cos'è 5 quello rosso come fa trovervi a 6 stelle che puro forse perché gioca online e vince dipende magari anche quello vabbè a me ha dato la macchina il bucio di fulo quello lì 55 milioni che fulo eh fortunello diciamo che io farmo come un mato però in questo caso vedi mi piace perché alla fine della fiera adesso sta dire non lo sto squagliando quindi è un farming che comunque si può fare tranquilli senza spattersi infatti ci sono un sacco di ragazzi su Gran Turismo Italia dove ho postato potevo tenare un po' prima ma Marco dai a fare ste cose oh caspita vedi perdi un attimo un po' di distrazione adesso non ne ho fatto le scatole se ne se ne prega se era con quell'altra CLK l'ho già buttato via tranquilli per esempio magari no perché riuscivi a recuperare ma di certo non allorga 8 secondi quindi aumenta 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 perché è vero che va soltanto a 265 e le altre invece vanno di più però poi nelle parti qui mi dai via proprio di potenza questa macchina è un mostro mille passatorali frenare non è che è frenata antissima perché è più però è va anche veloce quindi la frenata è in base anche alla velocità la CLK di prima mi è piaciuta davvero tanto mi è piaciuta davvero tanto la Mercedes perché sono un'ulburing è veramente stabile non faccio più strane io prima me la facevo con la Mazda Concept che anche lei è un bel piodo però sinceramente questa questa Mercedes è bella è bella voglio proprio vedere domani quando riesco a comprare la McLaren allora io ti invito domani pomeriggio amico del Tormaster a vedere la mia live perché sicuramente la compro ok quindi aspetterò a comprare quella macchina in live non voglio comprarla prima la macchina quando farmo alle 3 mi collego su Twitch vedi che poi sbaglio questa curva qua è per il video alle 3 mi collego su Twitch compro la macchina e andiamo a provarla anche su questa pista così magari posso anche dare un'alternativa ai miei amici di Youtube su come farmare su questa pista anche con un'altra macchina che non sia le 17-18 ok ok al massimo c'è sempre la replica il Tormaster ti vai a vedere la replica un pezzettino se vuoi vedere come cuore tanto non c'è problema se vieni live possono anche parlare se ti vedi la replica se vuoi vedere come corre ti puoi anche vedere la replica quando arrivi perché all'incirca domani è pomeriggio domenica dalle 3 alle 5 5 e mezzo dovrei fare la live finché ancora non è bello dopo quando verrà la stagione bella ragazzi i pomeriggi sicuramente qualcuno dove non faccio niente ci saranno ancora ma mi arrivo a giocare al parco con i figli a pallone sto a faccio in giuretto quindi vedete la montagna sono a un passo dalle cascate del Torce un'oretta e mezza di volto le cascate quindi normalmente l'estate dobbiamo passarci anche il weekend anche il montaggio farò meno live sicuramente che che l'inverno però però ci sono di settimana ci sono sempre dovrei fare per un certo periodo tutti i giorni ma sto già valutando di saltare il martedì e il giovedì per potermi dedicare alla palestra che ogni buon pilota deve anche avere in palestra si sta si sta l'unque martedì adesso stavo portando anche altri giochi come Tokyo Ghostwire Tokyo come Horizon con Titan West stavo portando il Lego che è uscito pochissimo tempo fa settimana scorsa che è bellissimo ma forse è matti di questo sì sì è tutto matti di questo proprio appena uscito e Fina Fina Wonderland anche altri giochi oltre proprio quelli di moto di macchine moto anche perché io portavo anche però lì ero un po' più serio parlavo meno e ero meno streamer più giocatore piacevo anche essere toccorso a punta edizione alla fine poi viaggiamo veramente bene però visto che mi devo concentrare troppo per giocare bene la fine e la fine che erano di dire a che parte l'ho mollato di gioco quindi io credo che Gran Turismo 7 sia anche un pronesso migliore tra simulazione semi-simulazione e un gioco del Dio perché mi ricordo sempre il tuo certificatore bastava fare un errorino e ti avevi tutta la gara come se ce ne puoi in realtà poi i settaggi là erano meravigliosi complicati perciò 80% non c'ho tanta voglia sinceramente di fare i settaggi mi piace correre parlare con voi che è il mio sì vabbè siamo fatti 725.000 euro facili facili vedi come li prendo capito il Dottor Master è veloce innanzitutto ciao a tutti amici di Twitch salutatemi in live così vi saluto scrivete qualcosa così posso salutarvi so che siete entrati e se vi vai iscrivetevi al canale facciamo tanti giochi come ha detto Dottor Master ogni punto ma se tenete anche voi scrivetemi così almeno posso salutarvi in live andiamo a fare le gare online anche con voi se volete giocare con me iscriveteli è un gioco fighissimo perché ha fatto la versione PS5 e lo formato è da adesso gratuita tra l'altro l'ho scaricata ed è migliorato veramente veramente tante assetto corsa competizione è un gioco di una software italiana è il miglior simulatore che io sappia al mondo questi che non usano anche i propri professionisti chiaramente su PC top però è veramente un gran bel simulatore ma è simulatore è un sbaglio qualcosa e va e va e mi ricordo che ho fatto 30 giri per impararmi la pista che adesso non vi ricordo come si chiama ma ragazzi è stato veramente frustrante mi dico la verità perché poi alla fine me la ricordavo a memoria ma la odiavo anche con la Lambo mi sembra di ricordare che la faccio con la Rafa non c'è tante macchine non c'è tante piste nei campionati adesso mi ricordo più su spie non me lo ricordo neanche più poi ho citato il formula 1 molto molto bello molto bello abbiamo fatto anche il simulatore metto kevin normalmente con me che avevo detto il passo prima si gioca già la Germania quindi metto kevin e ci passiamo ai settaggi oh stupido ma cosa giri lì ma mica la curva lì c'è a me di botte stupide cosa mi è venuto addosso a fare non c'è la curva lì vabbè speriamo che mi dè 700 litri in prima zona mi ha ragione allora con il clk vedevi che praticamente quando acceleravo andavo più nella loro velocità io me li brucio ma me li brucio proprio è un po' quello che ti dicevo se vuoi anche tu farmare facile con la tua ma ma di prendere questa macchina qui la bgps è quello che ti ho detto e mettere i settaggi che ho fatto il video perché se no non ti fa partecipare a questa gara infatti l'ho postata sui studi di Gran Turismo Italia e mi l'hanno anche ritrizzata su Instagram io su tutto Facebook, Instagram TikTok Twitch Discord tutto come Marco Gran Turismo ok ragazzi se volete cercarli ho fatto un nuovo video anche su Facebook e TikTok dove faccio video un po' strano un po' diverso e quindi capito i ragazzi mi dicevano anche gli altri si prova a farlo con quella lì e io gli ho spiegato si hai ragione tu a te piace la Pagani te lo fai con la Pagani a te piace la CLK te lo fai con la GLK fai veramente la gara come parla normalmente ok però gli spiegavo anche se vuoi farmare in modo più e tu puoi scopare e traduzione dicevo un po' la gente non è che se uno vi dice fatela con quella macchina lì tutti devono farla con quella macchina lì io è un modo per far soldi facile come ho fatto vedere anche in questa live è vero funziona perché ci vuole un altro vado anche a farle comunque sono sempre il primo quindi è semplice insomma se non volete volete comunque correre non farvi la pittà ovale solo per i soldi infatti la vostra bella corsettina imparate comunque a usare la macchina usate a imparare la pittà e vi tira un paio sotto la ricettra spazio ma c'è il due nostro però è molto easy cioè non è non è stai sicuro che qui comunque anche se ti vai a girare anche se non sei stato attento anche se qualsiasi roba tu la vinci e i 725.000 arrivano a meno che fai a spazio al posto i scemoniti e allora magari te ne va a 500 o qualcosa a 1.000 però hai visto anche prima che praticamente eh sono andato a spazio non me l'avano già ho toccato dentro loro ma la tutta è questa cura che bella posta allora mancano tra i figli eh allora l'unica cosa che dà un po' pastiglio infatti sinceramente si potrebbe anche tenere un po' l'audio è questo che va in settima di giri a manetta e dà un po' pastiglio la questione dell'audio questo posso dire che è pastiglioso però se non si porta la sesta così non si riusce praticamente a fare assolutamente il a portare laggiù dei titoli per fare la gara quindi ha un senso infatti quando l'amico Kevin ha detto di fare questa gara in questo modo la prima volta che l'ho provata ha detto ok l'unica vince ho fatto sbagliato ma in settima subito e vado al motore come se dovesse scoppiare quello di far sì sì si va tranquillo che è successo quindi io ho fatto il video ho fatto tutto quello da dovere ho spiegato alla gente ma poi alla fine è stato il mio amico della Germania che mi ha detto tutte le info per poter fare questa cosa come mi dà i settaggi quindi è arrivato Kevin è arrivato anche Ciro ogni tanto non è più Ciro che mi dà i settaggi mi fa i settaggi che non ho voglia assolutamente di provare i settaggi di provare la macchina perché voglio portare anche altri giochi adesso volevo provare a portare anche un altro gioco che danno col flash un bel giocchino di carte che mi piacciono tanto è tre giorni che sto tentando di fare il video e tra gran turismo e altre cose che Warzone non ce la faccio allora ragazzi 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 amici miei Warzone lo portiamo lunedì con l'amico Lord con l'amico Chardon magari si vuole anche lui con l'amico Pierpaolo il dissociatore di un grande tipo e con il grandissimo Morris ok e con il primo parte il suo ricerso per il primo moris è un ragazzo giovane molto giovane 11 anni che è bravissimo ragazzi spacca veramente tantissimo e fa parte dei flash che è uno dei migliori gruppi italiani o se no il miglior gruppo italiano che fa tutti gli esport a alto livello tutti i bravi player italiani quindi io vi invito ad andare a scrivervi a scrivervi ai loro social ai loro canali Instagram qui c'è tutto di seguire il culetto di seguire il grandissimo Morrison Morris che viene a giocare con me lunedì se sono cose strane dove di scuola dovrebbe venire a giocare con me lunedì alle 8 e mezza di sera quindi io mi invito rispetto alle 8 e mezza di sera facciamo un warzone anche se non vi piace magari un warzone dentro lo stesso di vedere Marco Drums perché si vive si scherza ok a parte domani a parte domani la programmazione di domani gran turismo e quattro d'altro quindi sempre che domani pomeriggio faccio gran turismo pomeriggio dalle 3 alle 5 dalle 3 alle 6 quindi va di farlo facciamo il pit allora abbiamo talmente tanto tempo che possiamo farcelo tranquillamente ma proprio tranquillo 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 con il pieno senza si attaccolare quanti giri mancano si potrebbe fare per 4 giri eh già adesso si potrebbe smettere però gli faccio fare il pieno diciamo i ultimi in pieno d'acqua un po' di acqua frizzontella poi sempre così eh quando esco dal pit mi deco il centro allora diciamo che la gara più bella di stasera a parte quelle del circo che mi sono piaciute tantissimo è stata con la Mercedes al Nürburgring Nord Schleife che poi tra l'altro ragazzi il Nürburgring Nord Schleife si pronuncia così vi faccio sentire come come si pronuncia il Nürburgring Nord Schleife eh un attimo un secondo che trovo l'audio un secondo così vi faccio sentire esattamente la pronuncia del Nürburgring Nord Schleife ragazzi eh eh no ma io devo vedere quali che ho mandato io che stupido Nürburgring e Nord Schleife ok Nürburgring e Nord Schleife avete sentito bene la pronuncia perfetta di Nürburgring e Nord Schleife bellissimo che è il mio tedesco la sa la sa pronunciare in modo tutto ok dai andiamo a prenderci sti 700.000 ci salutiamo amici e ci vediamo domani 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 mi faccio due garettine alla mattina e ho soldi sufficienti per comprare la mitica anzi sai cosa ti dico magari porca loca sono andato a sbattere scusate ragazzi stavo pensando a domani magari ti dico ti dico proprio così te lo dico dottor Marta così se ti guardi il mio video indifferita quando torni se non sono in live o comunque quando arrivi al pomeriggio che sono andato per il verso le 5 magari sono ancora in live mi compro anche la pagani dai me la compro mi compro anche la pagani però dovrei tenere un po' di soldi anche per elaborarla la pagani vero perché la pagani te la danno base magari magari compro allora ragazzi io vi aspetto domani ore 3 Gran Turismo 7 L'oggi Tergino 120 e andiamo comprare ragazzi ve lo dico così vi aspetto la BMW McLaren ok la McLaren BMW da 9 milioni e mezzo ragazzi se volete vedere 9 milioni e mezzo spesi in mezzo millesimo di secondo venite domani a vedere la mia live in più credo di riuscire a comprare anche la Jura la ok perfetto è un 50 mila allora devo calcolare la macchina più 50 mila ok giusto 50-60 mila anche perché di solito compro tutte le macchine di limitatore e la zaborra perché poi se non riesco entrare da qualche parte almeno ce l'ho già la limitazione che posso fare e poi compro di solito anche le marce che se per caso mi passano qualche settaggio ho comprato le marce da forza vabbè ma il carbo ceramico c'è tutto già sulla la Pagani la Bossicombra te lo ricordi non c'è da comprare anche i freni o roba del genere gomme e come mi dicevi tu l'altra cosa ok perfetto perfetto dai allora calcolo 150.000 più 50 sono un 200.000 macchina 400.000 insomma non è questo se compro tutte e due che una c'è un biglietto che me l'ha dato per fortuna per fortuna di fortuna ricordo ah ok perfetto la R è già da gara perfetto perfetto eh le gomme costano 38.000 mi sembra di ricordare no? ma le gomme mi hai detto di comprare le medie dure o morbide scusa non ho letto o non so se me l'ha scritto gomme dure che durano di più io non devo cambiarle poi ragazzi domani ah tu le prendi tutte ah cazzo allora quindi sono un 70-70.000 di gomme se non sbaglio questo è un 38.000 quelle lì vabbè posso prendere morbide dure 60.000 perché le intermedie sinceramente non ho avuto quelli mai le medie se va come deve andare quella macchina lì non c'è bisogno di ma che vada se proprio si vuol fare il primo pezzo di pista un po' più veloce per recuperare un po' l'ultimo pezzo solo di per per fare benza ah tu tu eh dai normalmente le compro io compro anche da sterrato tanto per dire se la macchina mi fa comprare quelle da sterrato eh si si è solo che ci voglio tanti di quei soldi che ho detto marco che è altro che farmare allora io normalmente mi metto a farmare anche mio figlio e mia moglie quando quando sono offline per quello che poi riesco a comprare tanta roba così almeno porto delle novità sul canale le macchine perché non tanti non tanti amici che hanno un gioco riescono poi ad avere tanto tempo da giocare tipo il mio amico Maurizio un paio di Morris lui mi piace tantissimo e viaggia anche tantissimo oggi ha dato paga è stato bravissimo nella live anche il dottor Marco se vuoi vederla offline poi quando vado offline e quindi non ci sarà più la mia live ci sono le live scorse e c'è sia Warzone con il mitico Morris che è tuo figlio bravissimo bravissimo con la visione dei culetti e anche le live con oggi la gara che abbiamo fatto con il tuo papà Morris e Maurizio con il mitico Pivo e il mitico Dr. Master Charger che abbiamo giocato online quindi è fortissimo perché ci sono delle scene anche i portellamenti vari è una lorita in più ok andiamo a vedere quanto ci ha dato una ventina di minuti ce li siamo fatti tutti e ne ha dato 725 ragazzi ho quasi i soldi per comprare la mitica la mitica leclare quindi Dr. Master io ti consiglio come ti dicevo guarda il migliore c'è quelli di offline quindi oggi il regalo che sta qui è picchissimo magari il salto un po e vedi i punti calienti della live che sono veramente belle si trova anche di vedere quattro spari con Bordone con il mitico Morris poi sto cercando di organizzare delle live picchissime con Toradino un altro regalo che è piccissimo delle live con Lucy Lux che è una streamer incredibile bravissima che fa anche il retro gaming adesso vediamo se possiamo fare qualche live mitica io vi aspetto domani alle 3 con il 100 e noi andiamo a simulare una decina di milioni di macchine quindi ragazzi se volete vedere un youtuber che spende 10 milioni di porti suoi serviti propri in macchine venite a vedere che la live è picchissima e domani sera non so se facciamo Warzone o facciamo ancora alcuni ma ti ricordo e ti aspetto anche dottor master anche se magari non ti piace proprio Warzone perché non so se mi piace o no però la live è pida live di sera alle 23 con il mitico moris il mitico pierpaolo il dissociatore di un mitico di twitch e pippo e il mitico lord che è il compagno della mitica giuri che è la mia titolatrice la moderatrice del go ok dai allora io le cose che dovevo dire io le ho letto vi ho dimostrato in due gare che con questa macchina ragazzi lo fate easy easy ok grazie dottor master grandissimo grandissimo io sono distrutto davvero sono qui che ride scherzo faccio ma sono distrutto tutto il giorno che corro vi ringrazio buonanotte buonanotte dottor master grazie per essere venuto e stato con me ciao a tutti a domani ciao amici miei notte notte ciao dottor master grazie mille buonanotte buonanotte a te ciao 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 domani compro la la pagani ciao 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 a tutti ragazzi domani compro la pagani grazie grazie a tutti buonanotte buonanotte a tutti quanti ciao amici miei buonanotte 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 ciao amici